Via d'Or, Andrea Parolfi, 5 Orlicar, Marcello Letieri, 6 Obi-Rob, Massimiliano Castaldo, 7 Melandri, Chiu, Marino Lovera, seconda pila, 8 Mallorcav, Claudio Baldi, 9 Olmo, Franco Perrero, 10 Manuel DBM, degli oparenti, favorito Melandri, Chiu. Oviuco e Orlicar si ritraggono dall'ala in fase di allineamento l'errore del numero 1 Mandela, dall'esterno Melandri, Chiu attacca Obi-Rob, i due si avvantaggiano in lotta nei confronti di Ops, poi Oviedor, quindi Oviuco per linee interne, è passato Melandri, Chiu avanti a Obi-Rob, così in piegata con Melandri, Chiu alla vanguardia. Non abbiamo sul tabellone i parziali cronometrici, sul tabellone ancora i parziali della corsa precedente. Melandri, Chiu comanda nei confronti di Obi-Rob, in terza posizione rimane Ops, in quarta c'è Opiuco, risale Oviedor che si trascina a Mallorcav. All'avanguardia Melandri, Chiu. Melandri, Chiu continua nei confronti di Obi-Rob. Seconda e penultima piegata con Melandri, Chiu avanti a Obi-Rob, poi Ops con al lato Oviedo-Or, quindi Oviuco con in fuori Mallorcav. Retto opposto a quella d'arrivo, con Melandri, Chiu all'avanguardia. In seconda posizione sempre Obi-Rob, terzo all'esterno Oviedo-Or di misura su Ops. Il giro completato con Melandri, Chiu sempre a precedere Obi-Rob, terzo in fuori Oviedo-Or, quarta di dentro Ops, poi Opiuco con in fuori Mallorcav, quindi ancora Manuel DBM con al lato Olmo in coda a Orlicar. Sempre in vantaggio Melandri, Chiu su Obi-Rob e Oviedo-Or all'esterno. La squalifica per Orlicar, ingresso in dirittura con Melandri, Chiu al comando, Oviedo-Or in seconda posizione, poi in recupero Mallorcav. Melandri, Chiu all'avanguardia, Melandri, Chiu su Mallorcav, Oviedo-Or, Oviedo-Or e Ops. Successo del favorito Melandri, Chiu, totalizzatore 1,75, la copiata 7,8, paga 9,17, trio 7,8,4, 15,04 euro.